www.jazzconvention.tv Tutte le informazioni sono sul sito nella pagina dedicata all'evento e tra gli articoli pubblicati vi segnaliamo quello relativo al concerto balermitano del quartetto di Ralph Alessi seguito per Jazz Convention da Aldo Del Noce. Le tre recensioni presenti nella homepage del sito sono Skylark del quartetto guidato da Michele Francesconi e Laura Anzolini, Barbacana dell'omonimo quartetto inglese e Sonic Latitudes di Marco Di Battista e Franco Finucci. Lo spazio è scelti per voi, questa settimana presenta di nuovo Face to Face, il disco realizzato in duo da Fabrizio Bosso e Luciano Biondini. Jazz Convention propone ogni giorno nuovi articoli e recensioni, potete seguirli direttamente sul sito www.jazzconvention.net e sui principali social network. Ci vediamo la prossima settimana sempre su Jazz Convention on TV.